Dacia mette il turbo al GPL Dacia mette il turbo al GPL Con il passaggio alla normativa Ero 6, Sandero, Sandero Stepway e Logan MCV si arricchiscono di un nuovo motore turbo GPL sulla base dello 09 TCE benzina Essere green risparmiando oggi su Dacia diventa ancora più divertente Grazie alla moderna tecnologia turbo Il nuovo motore turbo GPL offre delle prestazioni dinamiche e non dà l'impressione di essere alla guida di un GPL Pur mantenendo bassi emissioni e consumi Beneficiando di tutto il know-how tecnologico del gruppo Renault Nella produzione di nuove tecnologie Questo motore offre una coppia di 140 Nm a soli 2250 giri al minuto assicurando riprese vivaci fin dai bassi regimi e un autentico piacere di guida sia nel traffico cittadino che nei percorsi extraurbani Tante prestazioni in più riducendo consumi ed emissioni del 25% Come? Il nuovo turbo GPL grazie alla tecnologia downsizing permette costi di utilizzo ottimizzati Da 98 g di CO2 su Sandero e Logan MCV ed un consumo veramente molto competitivo 100 km si fanno con soli 6,2 litri Sandero stile moderno e accattivante soprattutto nella versione crossover Stepway che rappresenta il 52% delle vendite Oggi con il nuovo turbo GPL Sandero diventa più boost che mai a partire da 9.500 euro e da 12.200 euro nella versione Stepway Logan MCV spazio e comfort da vera station wagon da segmento C Oggi disponibile con turbo GPL a partire da 10.750 euro Dacia mette il turbo al GPL e guidarla diventa ancora più divertente Grazie a tutti